Un caro saluto a tutti da Francesco Amodeo. Non voglio usare termini complottistici ma mi rendo conto che quello che sto subendo è una vera e propria persecuzione ad personam da parte dei colossi del web. Dico ad personam ma mi riferisco ovviamente ad una intera categoria a cui appartengo. A gennaio, il primo gennaio del 2022, mi sono arrivate alcune mail che mi segnalavano che il mio profilo e la mia pagina facebook ufficiale erano state bloccate, che mi segnalavano che il mio canale youtube era stato momentaneamente bloccato ma che comunque la monetizzazione di quel canale era stata invece bloccata a tempo indeterminato. Mi segnalavano che non era più possibile fare dirette instagram sulla mia pagina ufficiale. In pratica mi mettevano il bavaglio in maniera assolutamente immotivata. Ma è ovvio che nel mirino fosse finita un'intera categoria, quella dei giornalisti liberi che non sono più nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro. Io, come molti altri miei colleghi, sono iscritto ad un albo. Pago la cassa dei giornalisti ma non ho nessuna tutela contro questo tipo di censura. Chi ha scelto come me di non lavorare con altri editori per mantenersi quanto più possibile libero e indipendente oggi non può più svolgere il proprio mestiere. Perché se i giornali non pubblicano inchieste come le mie e se i social mi chiudono i canali e mi rimuovono i post, vi renderete conto che è impossibile continuare a lavorare. Ora, che sia chiaro, se io scrivessi sui social che non bisogna curarsi ma usare l'anfetamina contro il covid o follie del genere, ben venga che ci sia un ente regolatore capace di rimuovere post del genere o di rimuovere post che inneggiano alla violenza. Ma se io pubblico ricerche e dati scientifici ufficiali che forniscono un contraddittorio alla narrativa dominante, se io riprendo sui miei canali gli interventi di medici non allineati ma interventi che sono andati in onda sui canali televisivi non è possibile che questo tipo di post vengano rimossi e non è possibile che questo mi causi il blocco totale delle mie pagine e dei miei canali social. Questo non è assolutamente possibile, vuol dire non essere più messi nelle condizioni di lavorare. Ed è chiaro che nel mirino è finita la libera informazione. Pensate che addirittura mi hanno rimosso un post in cui mettevo a confronto due articoli di giornale in cui Conte faceva due affermazioni diametralmente opposte l'anno prima con l'anno dopo. Anche il confronto di questi due post mi è stato rimosso e proprio per l'assurdità dei post che mi hanno censurato mi sono potuto rivolgere all'avvocato Claudio Di Napoli che è specializzato in questo settore perché proveremo insieme a creare un precedente giuridico contro questo tipo di censura perché veramente non si può più andare avanti così e questo atteggiamento dei colossi social non può assolutamente essere tollerato perché questa volta ad andare in quarantena è proprio la democrazia. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto a tutti!